Sono salvi i due interziti che avevano rischiato di essere soppressi. Un sospiro di sollievo quindi per i numerosi pendolari a Eretini che si erano rivolti nei mesi scorsi direttamente ai sindaci del territorio perché prendessero una posizione a riguardo. La notizia del mantenimento degli interziti è a rischio cancellazione. Sette coppie, quelle in questione delle quali quattro interessano la Toscana e due sono utilizzate dai pendolari a Eretini arriva dal deputato a Eretino Marco Donati che esprime grande soddisfazione. Alcune settimane fa commenta l'onorevole Donati assieme all'onorevole Dallai e altri colleghi ho presentato un'interpellanza urgente al Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti per chiedere il mantenimento di sette coppie di interziti di cui quattro in Toscana, in particolare due nella tratta Napoli-Milano che vengono utilizzati dai pendolari per collegare la città di Prato, Firenze, Arezzo e Chiusi. Oggi è arrivata l'ufficialità tramite la risposta in aula del sottosegretario Umberto Dalbasso De Caro che grazie all'impegno del governo le coppie dell'interziti oggetto dell'interpellanza sono state mantenute.